Ok, aggiungiamo questo, perfetto, va bene. Ah, ciao! Scusa, ero impegnato a completare un video tutorial, dopo ti spiego. Infatti oggi vediamo come creare un video da una foto e come magari applicare un effetto e un'animazione ad una foto. Tutto questo con un'app gratuita che non guasta assolutamente. Dai, vediamo subito! Ciao, eccoci qua, come vedi, in versione un po' artista, perché Zia Cla mi ha chiesto di fare un video tutorial per la sua ricetta, che ha detto che c'entra la zucca, poi vediamo bene. Però gli ho chiesto, ma Zia Cla, hai fatto i video di tutti i passaggi in modo tale che possiamo far vedere bene come si fa? E lei mi ha detto, ah sì, qualche video l'ho fatto, però ho fatto tante foto. Ok, però io il video devo farlo completo e quindi cosa mi invento adesso? Sicuramente dovrò utilizzare adesso delle foto in modo tale che queste foto messe in mezzo ai video facciano vedere proprio tutti i passaggi. Però queste foto a un certo punto non posso metterle statiche lì, devo fare in modo che il video sia in un certo senso uniforme, quindi che da queste foto venga fuori un video. Come faccio? Poi oltretutto adesso sono fuori ufficio, ho solo qui il telefono e quindi devo utilizzare un'app. Vabbè, non c'è problema, dai, so già come fare, ho già un'idea. Che app posso utilizzare? Beh, in questo caso utilizzo quest'app CapCut, che è anche utile per animazioni, per effetti sulle foto, oltre che sui video. Clicco su New Project o Nuovo Progetto e a questo punto posso caricare i miei video e le foto, soprattutto, che voglio utilizzare per fare il mio tutorial, il mio video o qualsiasi cosa che anche tu vuoi creare, no, con questa app. Benissimo, per non annoiarti troppo, devo dirti che io il video tutorial l'ho già creato e quindi ti posso dire che ci sono due soluzioni che puoi utilizzare per dare un po' di vita alle tue foto. Uno, gli effetti, due, le animazioni, ok? Quindi cominciamo a vedere qua, vedi questa in realtà è un'immagine statica, ma come vedi c'è del movimento, quindi sì, si vede che è un'immagine, però non dà così fastidio poi dopo dentro il video perché c'è comunque del movimento. Come ho fatto allora a fare questo effetto, perché questo è un effetto, non un'animazione e questo effetto parte dall'immagine precedente e va fino all'immagine seguente, ok? Per vedere come ho fatto basta andare in effetti, vedi qua ho applicato questi effetti, rolling film per esempio, posso anche toglierlo così ti faccio vedere. Ok, l'ho tolto e adesso lo aggiungo, faccio video effect, metto rolling. E' solo cerca, vedi? Cioè film rolling o rolling film. Io in questo caso avevo utilizzato rolling film. In alternativa posso anche andare in trending per esempio e scorrere, vedere quale effetto mi piace di più. Ci sono degli effetti che sono disponibili solo nella versione a pagamento, mentre altri sono disponibili anche nella versione gratuita. Quindi io clicco qua, scelgo rolling film e metto la spunta, vedi? Me l'ha inserito e come vedi ho inserito questo effetto. Poi dopo posso anche trascinare in modo tale che duri più o meno tempo, ok? Quindi la cosa positiva dell'effetto è che non solo posso applicarlo all'immagine, ma posso applicarlo anche magari all'immagine e video seguente o precedente, ok? E questo è anche utile. In questo modo ho anche un po' più di movimento e il video può diventare anche omogeneo. Vedi? Anche questa è un'immagine statica a cui è stato applicato un effetto, quindi ci sono anche diverse cose che puoi fare. Qua addirittura c'è un effetto e un'animazione, perché? Che differenza c'è? La differenza è che l'animazione viene applicata direttamente all'immagine, ok? E qua ho un'altra immagine statica a cui è stato applicato un effetto, quindi se vedi, ok, c'è del movimento. Questa immagine viene trasformata. E come ho fatto, se vedi, se vedi, animation in combo, ho utilizzato enlarge and bounce, ok? Quindi io posso anche in questo caso farti vedere di toglierla, non, ok? Quindi in questo momento si muove solo perché c'è ancora l'effetto precedente, ma poi quando non c'è più sulla barra l'effetto precedente, l'immagine è completamente statica, perciò io devo applicare questo effetto in modo tale che riprenda questo specie di zoom che allarga e stringe l'immagine, ok? Quindi vado su animation, combo e vado a ricercarla. Qua enlarge and... Vedi? Ok, c'è questo movimento e in questo video ho utilizzato diverse immagini statiche, però alla fine il risultato è abbastanza omogeneo, quindi possiamo dirci anche soddisfatti. Non è male. Quindi abbiamo detto, per esempio, che qui invece c'era anche l'effetto e animazione. E infatti se vado in animation, in combo, ho questa animazione qua, sway in. Questa animazione che, come vedi, mi fa ruotare l'immagine. Quindi l'effetto è combinato all'animazione. Ciao! Ciao Ilaria, buonasera Alta. Accendi! Accendi, grazie! Forse è evidente che per questo video mi sono dilungata un po' troppo, però ho cercato di farti vedere alcuni esempi che ti possono essere utili per fare dei bei video dalle tue foto, applicando effetti, animazioni, e quindi adesso vado anch'io. Però se hai bisogno di fare un breve ripasso, non c'è problema, perché ti lascio il link al video short che ti fa vedere i passi fondamentali. Ok? Ciao, alla prossima!